Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi, se Dio vuole, soprattutto se il meteo vuole, parliamo d'estate, dell'estate che si avvicina con i primi eventi legati soprattutto allo sport per anche parlare di turismo, perché le due cose sono strettamente legate. Lo facciamo a ridosso di due importanti eventi, avendo ospite nei nostri studi la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Buonasera, buonasera. Allora, ci siamo lasciati alle spalle l'evento di tennis proprio di Francavilla al Mare che si è concluso ieri. Ci stiamo per apprestare ad un'altra meravigliosa due giorni rosa, con l'arrivo in particolare nella sua città della gara del Giro d'Italia, che è anche il Giro d'Italia delle bici elettriche, che soprattutto tanti eventi collaterali che coloreranno, lo stanno già facendo, di rosa. Francavilla al Mare. Insomma, giorni frenetici, mi immagino, per la vostra amministrazione, soprattutto giorni di grande attenzione anche mediatica su questi eventi sportivi, che però anche hanno traino, oltre che sull'immagine, anche suppongo sulle presenze e sull'economia a Francavilla. Sì, certamente, Francavilla sta vivendo un momento magico. Questo mese di maggio è stato e continua ad essere un mese straordinario, grazie soprattutto agli eventi sportivi, eventi che fanno parlare di Francavilla al di fuori dei confini regionali e addirittura nazionali. Si è conclusa ieri la settimana dell'ATP Challenger Tour, che è un torneo internazionale di tennis, dove il grande tennis è stato a Francavilla ed è stata una settimana straordinaria. Adesso ci approntiamo, apprestiamo ad accogliere la tappa di arrivo del Giro d'Italia, che ci sarà giovedì, mercoledì 15 maggio, chiedo scusa, mercoledì 15 maggio. C'è un grande lavoro dietro, è stato un mese di eventi, l'ultimo c'è stato sabato con la notte rosa, è stata veramente una serata, una nottata straordinaria. Tutto questo chiaramente fa sì che si parla di Francavilla, adesso in un momento che ci fa alle porte dell'estate, per cui il trend di presenze turistiche a Francavilla, che era già in crescita in base ai dati regionali, sarà sicuramente ancora in ulteriore crescita, è un periodo davvero straordinario. Come avete coinvolto la città, i commercianti, ma gli stessi cittadini in questo vortice rosa? È stato un grandissimo lavoro che abbiamo fatto già da diversi mesi, facendo incontri con commercianti, associazioni culturali, balneatori, tutti gli operatori economici, e questo ci ha dato un grandissimo risultato. Chi è stato a Francavilla sabato sera ha potuto respirare proprio un clima di partecipazione di tutta la città, che si respira ancora adesso, veramente c'è un coinvolgimento di tutti e voglio approfittare per ringraziare tutti, perché hanno creduto in questo progetto, hanno capito che anche lo sport, sia il tennis che il ciclismo, ma tutti gli altri sport che abbiamo a Francavilla, fanno sì che si parli di Francavilla ovunque e hanno tutti, stanno tutti partecipando alla preparazione di questi eventi, quindi davvero c'è un clima di grande affiatamento tra tutti. Al di là della cartolina bellissima che avremo sicuramente, grazie alle immagini, soprattutto quelle dall'elicottero, che immortaleranno questa giornata storica per la città, come vi state organizzando anche per accogliere, sia pure appunto sappiamo le difficoltà di traffico legate alla chiusura parziale della variante statale adriatica, come state preparando per accogliere logisticamente il grande afflusso di persone che saranno a Francavilla e ovviamente quali saranno le limitazioni inevitabili alla circolazione? La chiusura della galleria è un grande problema per Francavilla, ma non solo per Francavilla, per tutta la zona circostante, mi sono battuta e sto continuando a imbattermi affinché l'ANAS rispetti i termini che ci ha indicato, cioè di riconsegna della strada entro la fine del mese di giugno, altrimenti sarà un grandissimo problema per tutto il territorio. Per quanto riguarda il Giro d'Italia è vero, ci sono delle limitazioni sulla viabilità e sulle soste, ho chiesto a tutti di avere grande pazienza e di leggere con attenzione tutta la comunicazione che abbiamo fatto sulla viabilità. È chiaro, sono dei sacrifici, però ho un grandissimo risultato, per una grandissima giornata di festa e quindi mi aspetto che il clima di festa, l'atmosfera di festa prevalga sui piccoli disagi che ci sono sulla viabilità. Questo dopo domani, però lei domani si va a fare un altro viaggio a Roma, un gran bel viaggio. Esatto, domani sarò a Roma perché anche quest'anno siamo stati convocati per la cerimonia bandiera blu, quindi anche quest'anno Francavilla con la sua costa sarà bandiera blu e anche questo un altro grandissimo traguardo e risultato raggiunto grazie al grande lavoro fatto dall'amministrazione per avere tutti i requisiti necessari per avere questa bandiera blu. Ecco, ma quali sono e soprattutto come siete intervenuti rispetto a quelle che sono le esigenze degli operatori turistici ma anche dei tanti turisti che gremiscono la città? Bandiera blu significa non solo buona qualità delle acque ma anche servizi forniti ai turisti e anche questo è un lavoro fatto dall'amministrazione insieme a tutti gli operatori turistici che ovviamente lavorano per offrire sempre maggiori servizi a turisti e residenti quindi devo dire che le spiagge di Francavilla sono lunghe spiagge dorate, molto ben servite, spiagge adatte soprattutto alle famiglie e quindi insomma è anche questo un lavoro di squadra fatto dall'amministrazione con tutti gli operatori che ci ha portato a questo traguardo. Il tema dell'erosione a che punto è negli interventi quelli che sono stati fatti quelli che dovrebbero ancora essere fatti soprattutto per un particolare tratto del litorale non tutta Francavilla per fortuna. Sì, Francavilla ha alcuni tratti in cui c'è il problema dell'erosione proprio in questa settimana dovrebbero partire i lavori proprio per contrastare l'erosione costiera in tre tratti di Francavilla, cioè nella zona più a sud proprio a confine con Ortona in una parte della zona centrale della costa e in una parte della zona nord. I lavori sono imminenti e quindi speriamo insomma di completarli entro l'estate per dare maggiore supporto anche qui ai balneatori ma non solo ai balneatori insomma è un problema che riguarda tutte le coste italiane su cui si sta lavorando particolarmente. Mi siete posti anche il tema dell'inizio dell'estate, anche la scadenza dell'inizio dell'estate per completare una robusta serie di interventi al centro proprio della città nella zona della Sirena in particolare. Ecco, lei è convinta di poter rispettare questo cronoprotogramma e come finalmente vedremo tutta quella piazza e tutta quell'area con un nuovo volto? Sì, Francavilla sta cambiando, sta cambiando davvero e mi scuso con qualche ritardo che c'è sempre con tutti i lavori pubblici così come accade nei lavori nelle nostre case quindi però siamo assolutamente a buon punto, stiamo per ultimare i lavori in Piazza Sirena e Palazzo Sirena e sarà una bellissima piazza, già si comincia a intravedere sono in via di ultimazione i lavori del lungomare Aldomoro abbiamo restituito alla città Piazza 4 Novembre e il Pontile che con un restyling molto molto carino rendendolo più leggero con un'architettura più marina stanno completando i lavori anche nella zona del porto che ricorderete era una grande piazzale desolato adesso sta diventando un parco con del verde e con tanto altro piano piano continuerà a crescere quindi i lavori ci sono, siamo in ritardo con i lavori del ponte lo voglio dire, lo sanno tutti e sotto gli occhi di tutti ma anche là vi assicuro che arriveremo a ultimazione insomma la città sta cambiando e stiamo veramente restituendo a tutti i cittadini una bellissima zona, soprattutto la zona del centro rinnovata e molto più vivibile poi ci sono i tanti eventi del cartellone estivo di Francavilla al mare si tratta di coinvolgere le principali realtà anche le zone dove ci sono più turisti nella città parlo naturalmente della zona della Sirena parlo naturalmente della zona dell'Asterio e parlo anche di Francavilla Alta che sta vivendo da anni una sua riscoperta e anche una vocazione diversa a un certo tipo di fruizione e anche a un certo tipo di eventi sì, ovviamente siamo già pronti o quasi pronti con il cartellone estivo abbiamo qua la brochure di presentazione delle principali manifestazioni estive abbiamo un cartellone ricchissimo devo dire abbiamo lavorato davvero tanto sia anticipando gli eventi come abbiamo detto prima puntando principalmente su quelli sportivi ma anche accogliendo insomma sabato abbiamo avuto Ineri per caso Giussi Ferreri Giovanni Cacioppo quindi già siamo partiti con grandi nomi ricominceremo immediatamente nel mese di giugno già con Adriatic Film Festival poi con Squilibri ospitando anche la finale del premio Strega con Paolo Fresu in concerto tutto questo nel mese di giugno poi nel mese di luglio si entrerà nel vivo delle manifestazioni estive ancora di più con Filosofia Mare Shockwave Festival che è una grande arena sulla spiaggia con artisti e cantanti per i più giovani avremo Blue Barsam Festival che ormai è un appuntamento tradizionale dell'estate francavillese e tanto tanto altro Anna Tatangelo alcuni nomi non posso ancora farli perché stiamo definendo dei contratti quindi ci sarà ancora tanto da scoprire ma ovviamente sarà un'estate ricchissima e a tutti questi appuntamenti principali con questi grandi nomi andranno ad affiancarsi tutti gli appuntamenti gli eventi culturali e turistici che vengono proposti anche dalle nostre associazioni che tanto fanno per arricchire il nostro cartellone estivo Bene, ultimi minuti di questa conversazione Sindaca per andare anche su qualche tema di carattere politico in particolare le chiedo stavolta sarà veramente un'osservatrice qual è il suo giudizio sul dibattito che accompagnerà nelle elezioni comunali di Pescara e Montesilvano in particolare quella che sarà l'ultima consigliatura di città separate che invece diventeranno tra due anni e mezzo un'unica realtà metropolitana che sarà proprio collegata perché lo è per la storia per anche l'espansione urbanistica con la sua Francavilla Lei è fiduciosa o preoccupata dal suo punto di vista di questo nuovo soggetto che nasce? Io credo che sia un grande progetto e sicuramente sarà insomma un progetto pilota che osservo con grande attenzione non sono preoccupata sicuramente dovremo trovare un modo per collaborare insieme cosa che già accade adesso ma sicuramente dovremo rivedere magari alcuni aspetti nessuna preoccupazione io penso che quando si creano ponti e non è mura tra le città si hanno solo ottimi risultati si può andare solo meglio quindi sicuramente l'obiettivo è quello di far sì che l'Abruzzo tutto unito continui a crescere senza distinzioni di province senza distinzioni di città quindi qualsiasi progetto che porta a una maggiore confronto un maggiore colloquio può solo far bene alle città e a tutti i cittadini Da adesso anche mi pare proprio sul fronte della mobilità con tu erano state in passato svolte delle prove tecniche diciamo di area metropolitana unica che erano state penso anche molto apprezzate dai cittadini sia di Pescara che di Francavilla pensate di proseguire su questo indirizzo? Io penso proprio di sì sul trasporto pubblico locale bisogna fare ancora moltissimo siamo molto indietro devo dire su questo mi aspetto qualcosa in più perché il trasporto pubblico locale può essere veramente la svolta per contenere il traffico e per proprio far capire a tutti i cittadini che ci può essere una modalità diversa di spostamento però è chiaro che deve intervenire la politica devono intervenire le istituzioni per offrire servizi alternativi a tutti coloro che tutti i giorni sono portati per abitudine a prendere la macchina quattro auto se ci sono quattro persone in casa quindi dobbiamo essere noi la parte politica e le istituzioni a offrire servizi diversi e da questo mi aspetto insomma qualche segnale in più da parte della regione e soprattutto mi immagino che lei sarà una sindaca militante nel protestare insieme ai suoi cittadini se l'ANAS dovesse fare qualche brutto scherzo all'inizio di quest'estate quindi vigilare di continuo soprattutto su questo tema che è fondamentale non solo per il turismo e per la fruizione della città ma anche per la nostra salute perché ricordiamo che se non si risolve questo problema le ripercussioni sono inevitabili sia sulla parte fruibile della statale adriatica vecchio tracciato sia anche sul lungomare assolutamente ho dato dimostrazione di aver combattuto per questo tema dal primo giorno mi sono sentita un po' sola devo ammetterlo perché è stata una battaglia che ho portato avanti davvero da sola ma perché sono convinta che la chiusura di quel tratto veramente crea problemi e disagi non solo a Francavilla ma davvero a tutto il territorio bisogna assolutamente far sì che la galleria riapra devo dire che così come io avevo invitato i cittadini a utilizzare il treno da Francavilla a Pescara mezzo di trasporto poco utilizzato adesso mi raccontano che spesso questo treno è assolutamente pieno 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 quindi dalla criticità è nata un'opportunità cioè molti hanno scoperto l'esistenza e la possibilità di spostarsi in treno da Francavilla a Pescara con soli 13 minuti quindi questo è un buon segnale ma assolutamente non basta continuerò a combattere e a vigilare sul rispetto dei tempi per la riapertura della galleria grazie ancora congratulazioni per la bandiera blu e buona estate a Luisa Rosso e naturalmente alla città di Francavilla grazie buona estate a tutti grazie a tutti grazie a tutti